Festa di San Fermo, Sant'Agata Martesana, ora adesso c'è fuoco d'antificio, mercoledì 9 agosto 23, ore 23 e un minuto. Festa di San Fermo, Sant'Agata Martesana, ora adesso c'è fuoco d'antificio. Festa di San Fermo Festa di San Fermo Festa di San Fermo, Sant'Agata Martesana, ora adesso c'è fuoco d'antificio. Festa di San Fermo, Sant'Agata Martesana, ora adesso c'è fuoco d'antificio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.